e va che sono meravigliosa, diciamatelo grazie di essere qui come oggi, come oggi, come oggi allora spero vi stiate riposando a dovere durante le feste io mi auguro semplicemente che siate sereni in questo momento e cerchete di riposarvi il più possibile o di divertirvi il più possibile, se volete insomma, godetevi queste vacanze e questo periodo oggi sono qui per fare una skin care e oggi facciamo una skin care insieme se volete fatela insieme a me e in particolare tutti i prodotti che utilizzerò in questo video saranno di Jada Cosmetics che ha gentilmente sponsorizzato questo video e ne sono entusiasta quando mi hanno contattata ero veramente contentissima perché mi piace tantissimo la loro mission i loro valori è un'azienda italiana in particolare made in Sicilia in provincia di Catania direi guardiamo yes in provincia di Catania i loro prodotti sono certificati eco bio, vegan, nickel tested e sono anche cruelty free quindi vengono incontro alle esigenze di tutti e io mi ci sono trovata molto bene oggi vi mostrerò in particolare la linea che mi abbia piaciuto che è la linea Radiance tutti i loro prodotti quindi sono fatti con ingredienti di origine naturale e mi piace tanto la filosofia di con cui loro pensano e trattano i prodotti tutto come se fosse un piccolo gioiello appunto per il viso per far splendere il nostro viso ci sono anche gli sconti sul loro sito in questo periodo che sono iniziati il 21 dicembre e finiscono il 9 gennaio e c'è il 15% di sconto su tutti i loro prodotti sul loro sito e in più mi hanno dato anche un codice sconto personale del 10% con il codice CHIARA10 10% applicabile sui prodotti scontati quindi cumulabile cumulabile con lo sconto già presente sul sito quindi spero vi farà piacere e cominciamo subito con la skin care qui ho una paginella d'acqua mi sono già lavata le mani e adesso vado a bagnarmi leggermente il viso per metterci la mousse ma prima mi devo legare i capelli decisamente questo fiocchettino è molto fashion devo dire cominciamo con un prodotto che mi piace tantissimo io ho un tepole per i detergenti mousse e in particolare mi piacciono le mousse proprio belle corpose e morbide che sembrano una nuvola sul viso e questa è una di quelle allora se tutti i prodotti che un nasare sono della linea radiance con di base la vitamina C e poi altri attivi e vi faccio vedere la consistenza perchè è meravigliosa questa linea ha un effetto illuminante sulla pelle è piacevolissima sul viso e va anche un suono meravigliosa diciamocelo e vado a detergere anche gli angoli anche gli angoli del mio viso del mio viso mi chacquo e schacuò Grazie a tutti. 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 tolgo questo, è uno scrub molto delicato, questa è la consistenza. Adesso lo faccio sentire anche sulla pelle. Non so se è riuscito a percepire dal suono che è veramente delicatissimo, quindi dovete avere paura insomma ad usarlo che sia troppo aggressivo. E poi ne prendo un po' un pochino per la fronte che ha sempre bisogno di un booster di scrap. provo a farvi vedere i pallini. guardiamo, guardiamo. toglierlo, ma mi piace togliere lo scrub con un panno molto 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 inumidito con dell'acqua. guardiamo. potete anche prima. inumidito bene il viso. lasciaccio. farlo bene e poi toglierlo con un panno. ma io qui, diciamo che non avendo un lavandino, non avendo un lavandino preferisco fare in questo modo. che vi passo più volte per essere sicuro di aver tolto tutti i granuli. vi fate mai uno scrub? vi fate mai uno scrub? oltremmo? 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 pancrello cioè oltremmo? e d'acях lì tutti non uso dischetti di cotone o altro perché questo metodo funzioni benissimo non mi sembra, non so, non mi va di sprecarli mi trovo benissimo così le metto appunto un po' sulla mano e poi prelevo con le dita e tampono bene tra l'altro è una cosa che mi mancava tantissimo io adoro usare tutti i prodotti di una stessa linea perché obiettivamente funzionano al meglio i prodotti sono studiati per essere usati tutti insieme e danno il loro meglio ed era da tantissimo che non usavo una linea tutta la linea con tutta la mia skin care di una linea completa e mi piace tantissimo questa cosa perché si vede proprio che si amalgamano bene i prodotti insieme, lavorano bene insieme ed è insomma il massimo vi faccio vedere il pack di contorno occhi siero e crema un giorno in questa linea sono veramente minimal non so se riesco a vedere e ultimamente preferisco decisamente le cose un po' più semplici e pulite e non so più tantissime le tutti li espostino di fianco all'altro allora questo è un contorno occhi e labbra effetto illuminante liftante ha questo rogatore qui ne metto veramente pochissimo e la sensazione è di un contorno occhi leggero ma che non scivola lasciatemi spiegare ok contorno a labbra fatto un piccolo massaggio a volte i contorno occhi sono allora questa texture è intanto abbastanza fresca quindi da una sensazione di freschezza sotto gli occhi molto piacevole è leggera nel senso che sentite il pesante del contorno occhi ma si assorbe bene non è tipo leggera che poi non si assorbe ma è troppo acquosa eccetera è leggera nel senso che sentite che non vi appesantisce gli occhi e si assorbe subito potete la peglia lasciatemelo fare penultimo step siro sembra siro viso effetto illuminante anche questo come anche la crema all'erogatore fatto in questo modo la consistenza vedete invece qui che è un po' più liquidino ovviamente ne metto un altro pump e questo siro lo uso di giorno di sera invece c'è sempre di questa linea una crema specifica per la notte e poi invece di sera uso un altro siro nere anche questo pack questo pack in vetro molto lussuoso bello pesante bello pesante si sente che è il siro numero uno idratante e lo uso appunto per la sera quindi via all'interno ultimo step crema idratante ho sbagliato questa è la notte ultimo step sempre linea radius la consistenza invece qui è ovviamente più densa e io con la crema vado su viso e sul collo e poi quando riesco vi faccio anche un pochino un massaggio quindi un pochino scusate non mi raccordo di avere un po' un po' di crema qui e ci sono anche durante la buonotte mi dispiato allora io spero davvero che questo video vi sia piaciuto e vi appellassate che questi prodotti anche vi stiano intrigando io ringrazio ancora c'è da Cosmetics per avermi coinvolta per aver sponsorizzato questo video e io penso proprio penso proprio penso proprio 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 si aggiunto allora passare augurare buona notte 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 ne ne crescendo buona notte buonanotte 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 miei pasticcini al melograno vi mando un bacione fate i brani che li spero